Ciao ragazzi, come va? Spero bene. Oggi vi dovrò dire una brutta cosa con questo. Come potete capirlo, non è un televisore, infatti lo è, però è povero questo televisore. De BM, beh, mi hanno fatto esplodere la vanilla. Le due vanille, quelle che facevo sempre live e quelle dei video. Quindi ragazzi, mi dispiace. Vabbè. Comunque, mi sono costruito qua sottoterra una bellissima casa. Però sottoterra, non mica qui sopra. Perché già si dovrebbe vedere tutto. E vabbè. Comunque l'ho fatta in creativa. No, veramente in sopravvivenza. No, dai, scherzo in creativa di nuovo. Perché in sopravvivenza ci avrei messo 4.000 anni. E ho creato io tutto questo. Come potete vedere. Infatti, vabbè, no, niente. Comunque. Vi devo fare vedere una cosa importantissima. Prima che voi vi arrabbiate, vi lasciate i like. Prima che vi arrabbiate, beh. Vi devo fare vedere una bellissima cosa. Anche se è notte, ma io sono in creativa. Quindi, beh. Volete guardare? Beh, prima chiudete gli occhi. E ve lo dico io quando aprirò lì. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Chiudete lì. Beh. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto. E grazie di tutto per aver lasciato il like. Ed iscriversi al canale. Infatti ho fatto questa cosa. Grazie ragazzi per averciuto un po' di uno spazio. Adesso dobbiamo scrivere il vero amato. Adesso dobbiamo scrivere il segno della vita. E aprire prima gli occhi. Anche se non l'ha detto, ma vabbè. Faccio parkour nei numeri. Ok. Sono morto. Ciao ragà. Dove morire nel raid. Vabbè raga. E grazie per tutto questo supporto. E per aver lasciato il like. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. No, veramente ciao. Faccio anche morire. Aaaaaah! No, ma non voglio più morire. 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 No, ma non voglio quasi morire. Ma non voglio più morire. Grazie a tutti.